Gli agenti del commissariato di Grottaglia, in collaborazione con i colleghi della Questura di Taranto e del reparto Prevenzione Crimine di Lecce, hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare, di cui cinque in carcere e una agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti tutti indiziati di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati, tra cui rapine a mano armata, furti, estorsioni, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati commessi fra il 2014 e il 2015 fra Grottaglie e Villa Castelli. Il procedimento penale che ha portato all'emissione delle misure restrittive nasce dalle risultanze investigative acquisite nel corso delle indagini, volte ad accertare gli autori di una cruenta rapina perpetrata a Grottaglie il 31 agosto del 2014, quando i proprietari della pizzeria Notre Dame della città delle ceramiche, mentre si accingevano a chiudere il locale, furono sorpresi da tre individui armati di pistola e travisati da passamontagna, i quali sotto la minaccia delle armi riuscirono ad impossessarsi della somma di 5.000 euro. Nel corso dell'aggressione uno dei malviventi puntò la pistola alla testa del figlio della coppia di appena 8 anni. L'indagine, durata circa 20 mesi e coordinata dalla procura di Brindisi, ha portato allo smantellamento del pericoloso sodalizio criminale. In carcere sono finiti Domenico Marangi, 19enne di Villa Castelli, Cosimo, Giuseppe e Daniele Leone, rispettivamente di 36, 25, 21 anni, sempre di Villa Castelli, e Antonio Di Palmo, 24enne di Grottaglie, ai domiciliari Isabella Di Palmo, 20enne di Grottaglie. I membri dell'associazione, seppur molto giovani, nel corso delle loro attività delittuose, hanno dimostrato di possedere una violenza ed una spregiudicatezza fuori dal comune, commettendo numerosi gravi reati che hanno generato un enorme allarme sociale fra la popolazione del luogo. Tra gli episodi più significativi che vengono contestati agli indagati, anche una violenta rapina consumata il 25 maggio del 2015 ai danni del bar Dada Caffè di Villa Castelli, quando uno dei cinque autori, armato di pistola, dopo aver costretto il titolare del bar a rivolgere la testa verso il muro, lo ha minacciato poggiandogli l'arma contro la tempia. Analoga spregiudicatezza, è emersa anche nel corso di un'altra rapina consumata il 28 settembre 2015 in danno della titolare di un'agenzia assicurativa di Villa Castelli, che mentre si trovava a bordo della propria autovettura, Ceglie Messapica, è stata affiancata da un'altra auto con due individui a bordo travisati da passamontagna, i quali, dopo averla minacciata con una pistola, l'hanno speronata e dopo averla costretta a finire fuori strada, si sono impossessati della sua borsa. È ancora una rapina all'Eurospin di Grottaglia il 30 maggio 2015, sempre con la minaccia delle armi che fruttò 1.200 euro. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Brindisi. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Brindisi. Grazie a tutti.